Ciao e bentornati. Prima di iniziare con il vero e proprio argomento del video di oggi, serve fare una piccola divagazione sulla storia e sul contesto da cui l'opera di cui parlo oggi nasce. Intorno alla metà del Seicento in Inghilterra una guerra civile pone fine per circa un ventennio alla monarchia. L'Inghilterra è stata una monarchia in maniera praticamente ininterrotta dal 1066 a oggi, una monarchia con uno Stato unitario. L'unica eccezione è questo periodo di circa vent'anni, intorno alla metà del Seicento, quando uno scontro nato per motivi fondamentalmente religiosi si conclude con la deposizione del re, con il suo arresto, con il suo processo e con la sua condanna a morte da parte del Parlamento. L'Inghilterra in quel periodo diventa una specie di repubblica che viene chiamata Commonwealth, un nome che oggi significa la comunità degli stati ex-coloniali che facevano parte dell'impero inglese ma che all'epoca indicava la forma di stato che c'era appunto al posto della monarchia. A capo di questo Commonwealth c'era il cosiddetto Lord Protettore che era Oliver Cromwell e che per un brevissimo periodo fino alla restaurazione della monarchia è stato anche il figlio di Oliver Cromwell. Il governo del Commonwealth aveva tra i suoi vari membri anche John Milton che è l'autore del breve estratto di cui parlo in questo video. John Milton era addetto alle comunicazioni in latino del governo del Commonwealth e aveva un ruolo tendenzialmente da diplomatico. Al momento della restaurazione della monarchia Milton viene estromesso dalle posizioni di potere e come sempre succede in caso di cambi al vertice in uno stato quasi tutto ciò che aveva a che vedere con il Commonwealth viene spazzato via. Milton perde la sua posizione, passa da uno stato di fortuna e ricchezza a uno stato di quasi totale indigenza. Morirà intorno alla fine del 1600 quasi cieco e in povertà ma in questo periodo, in questo periodo alla fine del, diciamo, dopo la sua esperienza governativa scrive quello che è il suo capolavoro che è un lungo poema epico in 12 libri intitolato Paradise Lost. Il testo che mi interessa, il testo che voglio raccontare in questo video viene proprio da qui. Paradise Lost è un lungo poema epico che racconta la caduta dal paradiso di Adamo e Eva a opera di Satana. È un poema che apparentemente ha un tema religioso ma nasconde un po' di altri messaggi che sono più o meno espliciti nel racconto di Milton. Il testo è tratto dal primo libro del Paradise Lost quindi siamo proprio all'inizio. Milton qui racconta la caduta di Satana il più bell'angelo del paradiso che si rivolta all'autorità superiore di Dio si scontra con lui viene sconfitto e viene spedito a governare all'inferno. Quello che abbiamo, quello che leggiamo è proprio il discorso che fa Satana quando prende possesso del suo nuovo regno cioè dell'inferno e quello che Milton scrive è qualcosa di molto particolare. Farewell happy field where joy forever dwells Hail horrors Hail infernal world And thou profoundest hell Receive thy new possessor One who brings a mind not to be changed By place or time The mind is its own place And in itself can make a heaven of hell A hell of heaven What matters where If I be still the same And what I should be All but less than human thunder Hath made greater Here at last we shall be free The Almighty hath not built here For his envy Will not drive us hence Here we may reign secure And in my choice To reign is worth ambition Though in hell Better to reign in hell Than serve in heaven Siamo abituati a pensare a Satana come ce lo racconta Dante nell'inferno della sua Divina Commedia In quel caso si tratta di una figura enorme mostruosa bloccata in fondo all'inferno ferma, chiusa nel ghiaccio fino alla cintola con tre facce che masticano i tre più grandi traditori della storia secondo Dante cioè Bruto, Cassio e Giuda e mentre fa questo il Satana raccontato da Dante piange perché manifesta il suo pentimento per il suo tradimento nei confronti di Dio John Milton racconta un'immagine del tutto diversa Paradise Lost è un poema epico e Satana pur essendo il principale antagonista ed essendo l'incarnazione del male in realtà ha tutte le caratteristiche dell'eroe epico nella descrizione di Satana che si trova nel primo libro del Paradise Lost possiamo riconoscere i tratti di personaggi come Achille o come Ulisse Satana nel suo discorso dice tutta una serie di cose che sono molto interessanti sia per cosa dice sia per quello che significano anche alla luce della biografia di Milton nel suo discorso Satana prende possesso del regno infernale e afferma che l'unico motivo per cui lui si trova lì è perché Dio è stato fisicamente più forte ma dal punto di vista del ragionamento dell'intelletto del pensiero e della razionalità si sente assolutamente uguale a Dio non c'è alcuna differenza tranne il fatto che Dio abbia vinto una battaglia sul campo quindi accoglie in pieno il suo nuovo regno e afferma con una delle più famose citazioni della letteratura inglese che è meglio regnare all'inferno che servire in paradiso questa è un'affermazione piuttosto interessante è un'affermazione veramente rivoluzionaria perché per la prima volta ci troviamo davanti a qualcuno che anche se all'apparenza sta parlando del nemico quindi dell'incarnazione del male assoluto lo dipinge come una figura per molti versi eroica è interessante notare come anche per esempio nelle incisioni che fa Gustave Doré per l'edizione di per la sua edizione del Paradise Lost Satana è ritratto come un condottiero non con tratti mostruosi o brutto con le zampe da capra eccetera ha in tutto e per tutto la stessa figura di un angelo ma con l'unica differenza che le sue ali sono le ali di un pipistrello tutto il tono il senso e il contenuto del discorso sono quelli che potrebbe fare un qualsiasi comandante prima di una battaglia ora qual è l'interesse di questa cosa legato alla biografia di Milton come ho detto all'inizio Milton era un membro del governo del Commonwealth quindi era un membro del gruppo che dopo una lunga e anche piuttosto sanguinosa guerra civile spodesta il re lo fa porre sotto processo e lo condanna a morte intanto è molto interessante perché è la prima volta che questo succede in Europa dopo la caduta dell'impero romano e questo è l'episodio della guerra civile inglese dell'instaurazione del Commonwealth serve come modello di ispirazione per le grandi rivoluzioni che si svolgeranno che avverranno circa un secolo dopo in America e in Francia che sono quelle che poi pongono le basi per la nascita degli stati contemporanei dicevo Milton è parte del governo del Commonwealth e una volta che il Commonwealth viene eliminato e viene restaurata la monarchia quello che succede è che ovviamente chi riprende il potere si riprende il potere e general e sostanzialmente caccia chi faceva parte del regime precedente ma in questo caso come dire Milton che appunto ha subito una vera e propria epurazione e come ho detto morirà quasi cieco e in povertà qui però riafferma sostanzialmente la validità dei suoi ideali possiamo tranquillamente identificare Milton con Satana qui Satana è colui che ha dato l'assalto al cielo e che ha cercato di ribaltare l'ordine costituito è stato sconfitto e ne paga il prezzo ma anche se ne paga il prezzo afferma esplicitamente che nonostante tutto è meglio regnare all'inferno che servire in paradiso perché regnando all'inferno ha modo di avere un suo regno di poter mantenere le sue idee parallelamente Milton pensa esattamente la stessa cosa quando fa dire a Satana queste cose qui ha dato lui e gli altri puritani hanno dato l'assalto al cielo per un breve momento hanno anche vinto sono anche stati vincitori ma nel momento in cui l'ordine costituito è tornato a ricostituirsi appunto e loro hanno hanno perso il proprio potere lui riafferma in ogni caso la sua aderenza agli ideali per cui ha combattuto e per cui sta pagando il prezzo e per cui non è più un uomo tra virgolette di successo quello che leggiamo in questo monologo è proprio questo è la riaffermazione delle proprie idee e dei propri ideali da parte di chi è stato sconfitto ma anche se è stato sconfitto non ha mai rinunciato alle proprie idee è sostanzialmente l'affermazione che nonostante la sconfitta Satana e Milton si è piegato ma non è stato spezzato io vi ricordo che in libreria potete trovare But We're Not The Same il libro edito da Arkana in cui racconto alcuni dei principali album degli U2 vi ricordo anche che potete trovare su Spotify e su tutte le piattaforme che diffondono i podcast The Perfect Song in cui racconto un po' di storie di alcune delle mie canzoni preferite vi invito anche se vi è piaciuto questo video a mettere un mi piace a iscrivervi al canale a diffondere tra i vostri conoscenti i vostri amici l'esistenza di questo canale se potete datemi una mano a crescere un pochino sono Daniele Funaro vi ricordo che Londra affonda e io vivo vicino al fiume alla prossima grazie a tutti grazie a tutti